In casa Trapani Shark si riparte dai primi 15 minuti giocati contro il partizia in Belgrado. I Granata hanno svolto una normale settimana di allenamenti e nel weekend giocheranno il torneo città di Ponzano in provincia di Treviso. La prima gara sarà sabato alle ore 18 dove i siciliani affronteranno Reggio Emilia. La seconda semifinale alle 20.30 fra i quasi padroni di casa di Treviso contro Trento. L'indomani invece il Palacicogna ospiterà altre due gare, alle 17.30 la partita per il terzo posto, alle 19.30 la finale del quadrangolare. Justin Robinson, playmaker della Trapani Shark, ha parlato del gruppo e degli obiettivi in vista della stagione che sta per arrivare. Credo che siamo più di un gruppo, sono il secondo più giovane della squadra e con tutti i ragazzi che hanno molta esperienza, la chimica è positiva fino ad ora. Ci stiamo conoscendo nei match della prestagione e spero che possa continuare così. Siamo entusiasti di vedere come affronteremo altre squadre italiane e giocare contro altri grandi talenti europei. Abbiamo sfidato il Partizan, il Galatasaray e gli svizzeri del San Massagno. Adesso sarà bello vedere come giocheremo contro altre squadre del nostro campionato. Avere squadre come l'Olimpia Cossa a Trapani è importante per la comunità e per tutto il gruppo. Il campionato è la cosa più importante, questo è il motivo per cui siamo qui, per vincere. Ma è un percorso di apprendimento, il nostro obiettivo è imparare il più possibile durante l'anno e migliorare ogni giorno con gli allenamenti.